Benvenuti a questa pagina dell'informazione odierna, la notizia del giorno ci porta da una emergenza all'altra perché in Sicilia si passa dall'allerta meteo che è per rischio incendi a quelle per il maltempo e tutto questo a volte addirittura nel giro di poche ore. L'argomento l'abbiamo affrontato ieri sera nel corso di De Politico, ma questo è il servizio realizzato da Mario Torrenta. Dopo mesi di siccità in Sicilia è arrivata la pioggia e puntualmente diverse zone dell'isola sono finite sott'acqua facendo scattare la conta dei danni causati dal maltempo. I dati del servizio informativo agrometeorologico siciliano hanno subito reso l'idea dell'intensità e dell'abbondanza delle piogge concentrate in poche ore. Lo scorso fine settimana a fiume di Nisi nel Messinese l'intensità oraria massima della pioggia è arrivata a 71,8 mm l'ora accumulando in ben 12 ore 151 mm di acqua. Sempre in base ai dati del Sias, la stazione di Riesi nel bacino del fiume Imera Meridionale ha registrato un accumulo di 150 mm tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre. I numeri fotografano insomma una situazione che dovrebbe portare a riflettere seriamente sulla crisi climatica e sulla fragilità dei nostri territori. Provando a trovare soluzioni concrete, innanzitutto superando le logiche emergenziali per puntare piuttosto su una pianificazione del territorio che tenga conto di eventi meteo sempre più violenti e per certi aspetti imprevedibili e un clima dove si passa da un opposto all'altro in men che non si dica. In Sicilia ad esempio si passa dalle allerte per gli incendi a quelle per il rischio idrogeologico nell'arco di poche ore e mentre si continua a parlare di siccità, emergenza idrica e del rischio roghi ecco arrivare temporali carichi di pioggia che possono fare danni. Si va insomma da un opposto all'altro in un batter di ciglia. E c'è sempre il rischio di esondazioni di fiumi, torrenti e canali, oltre che di smottamenti e frane nelle montagne devastate dagli incendi dove non ci sono più alberi che con le loro radici trattengono il terreno svolgendo una fondamentale azione di ancoraggio. Per non parlare che la vegetazione di un bosco drena le acque piovane mentre le chiome delle piante proteggono il suolo dall'azione corrosiva dell'acqua. I boschi del resto, oltre a dare aria buona ospitando biodiversità, assorbono la nitride carbonica e danno il loro importante contributo per contrastare la crisi climatica. Rappresentano quasi delle vere e proprie opere di ingegneria ideate da madre natura con tante funzioni. Ci vorrebbero tanti boschi insomma per salvaguardare territori invece da decenni. Continuano a bruciare, a complicare le cose. Ci sono poi le scelte fatte anni addietro quando si è costruito in quelli che erano gli spazi naturali dove andavano le acque piovane. A Trapani ad esempio resta quanto avvenuto nel dopoguerra con lo sviluppo del centro urbano e tra le scelte fatte allora ci fu l'interramento del lago Cepeo dove confluivano anche le acque piovane che arrivavano da Monterice per costruirci edifici e strade. Ma oltre al venir meno di quel grande bacino idrico naturale ci sono stati tutti i canali tombati che assicuravano il deflusso delle acque e alla fine i nodi sono venuti al pettine perché l'acqua torna sempre dove c'era l'acqua cercando le sue antiche vie ed ecco il centro urbano allagarsi puntualmente anche perché il sistema di smaltimento delle acque ideato e realizzato per una certa portata non potrà mai riuscire a fare defluire quantitativi sempre maggiore di pioggia concentrati per di più in poche ore e tecnicamente impossibile. A maggior ragione se poi i tombini e le caditoie si ostruiscono a causa dei rifiuti gettati per strada e la spazzatura non cade dal cielo come la pioggia ma finisce sull'asfalto per le cattive abitudini delle persone che ancora oggi continuano a gettare le cartacce e quant'altro per terra finendo per ostruire le già limitate e insufficienti vie di fuga dell'acqua. Storie vecchie, trite e ritrite. In tutto ciò come ce ne usciamo? Sicuramente non continuando ad inseguire le emergenze ma provando a pianificare e programmare gli interventi da predisporre nel lungo periodo. Per certi aspetti una città come Trapani andrebbe letteralmente aperta per rifare tutto il sistema di smaltimento delle acque bianche e quelle fognarie, possibilmente mettendo mano anche alle condotte idriche e rivedendo l'ordine dei tubi quali stanno più giù e quali più su. Andando poi oltre gli aspetti della manutenzione e rivisitazione delle infrastrutture l'imperativo dovrebbe essere investire in natura. Come? Innanzitutto liberando suolo piuttosto che continuare a mettere cemento per costruire. L'acqua poi deve scorrere nei canali e qui un tempo i trapanesi erano bravissimi a far girare l'acqua nelle saline che non ci sono più. Ma tra la città e la zona industriale c'è ciò che resta delle vasche delle ex saline collegio. Quest'area ancora libera potrebbe essere il punto di partenza per iniziare un nuovo corso, magari realizzando dei bacini dove raccogliere le acque e possibilmente mettendo a dimora quanti più alberi possibili e poi prendendosene cura sono i nostri più preziosi alleati per fronteggiare le sfide del futuro. Beh si va di seguire poi l'approfondimento tecnico che abbiamo fatto ieri sera a The Politicom. Ci sono diversi momenti di replica, certamente oggi pomeriggio, ma soprattutto poter rivedere la trasmissione sul nostro canale YouTube. Tutte le altre notizie invece tra poco con la prima edizione. I titoli di oggi riaprite le indagini, l'appello rivolto ai pubblici ministeri da Tony Pipitone, padre di Denise, scomparsa a Mazzara del Vallo il 1 settembre del 2004. I politici cercavano il sostegno della mafia, l'ho detto invece il pubblico ministero al processo d'appello denominato scrigno, è stata chiesta la condanna degli imputati. Notte di paura a Palermo, a fuoco l'istituto di igiene del Policlinico, cause ancora da accertare. E poi ancora giornata di educazione ambientale, oggi attrava l'iniziativa nel litorale del Ronciglio, dove gli studenti dell'istituto Rosina Salvo e del liceo scientifico hanno raccolto i rifiuti presenti lungo la costa. Per lo sport a Monopoli, con convinzione aronica, il mister del Granata del Calcio carica i suoi per la trasferta in Puglia. La Travani Shark invece, come sapete, tra le mura domestiche sfida Tortona. Per approfondimento chiudiamo lo spazio settimanale dedicato a questo focus sulle truffe, quest'oggi parliamo di truffe innovative, con una intervista realizzata da Maria Marrone al capo della squadra mobile di Travani. A chiedere nuove indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone e adesso anche il padre, Tony. Un caso irrisolto, una ferita mai rimarginata, un mistero lungo vent'anni, di Denise Pipitone nessuna traccia, nessun colpevole dietro la sua sparizione, nonostante le mille battaglie di mamma Piera, alla ricerca della verità, che ancora oggi è una chimera. Ora a chiedere nuove indagini sul caso della bambina di 4 anni scomparsa a Mazzara del Vallo il 1 settembre del 2004 e il padre, Tony Pipitone. Anche lui, come Pieramaggio, non si è mai rassegnato e, a distanza di 3 anni, dall'ultima archiviazione disposta dal GIP di Marsala, è tornata a chiedere ai PM di indagare. Della scomparsa della piccola venne inizialmente accusata Jessica Pulizzi, figlia di Anna Corona e di Pietro Pulizzi, padre naturale di Denise. La ragazza, per gli inquirenti, avrebbe agito per ritorsione nei confronti della Pipitone, colpevole di aver avuto una bimba dal padre, allora sposato con un'altra donna. Ma dopo anni di processo, Jessica è stata assolta con sentenza ormai definitiva. Tra falsi avvistamenti, segnalazioni anonime e nuovi spunti poi rivelatesi inconsistenti, l'indagine è stata riaperta più volte, l'ultima nel 2021, quando vennero iscritti nel registro degli indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, entrambi accusati di concorso nel sequestro, e una coppia di romani, Paolo Erba e Antonella Allegrini, che si erano inventati di sana pianta, testimoniando il falso di essere a conoscenza di particolari sul caso di Denise. Dopo mesi di accertamenti, la procura chiese per la coppia, che ammise tutto l'archiviazione. Stessa istanza venne fatta dal GIP per Corona e dalla chiave il giudice delle indagini preliminari. Accolse la richiesta scrivendo che un colpevole a tutti i costi, a prescindere dalla verità, non serve a nessuno. Secondo il giudice, delle indagini lunghe e incredibilmente vaste della procura non sono emersi elementi sufficienti a sostenere un'accusa in giudizio, aggiungendo che non è dato neppure a immaginare come potrebbe essere formulato dal pubblico ministero, anche sommariamente, un capo di imputazione nei confronti della Corona. Ogni ipotesi accusatoria a suo carico spiegò appare al momento assolutamente insuscettibile di essere vagliata in giudizio e ancora meno di condurre un'affermazione di responsabilità. Il caso nel 2021 era tornato all'attenzione dei media dopo la notizia data da una TV russa del ritrovamento della bambina, poi smentito dall'esame del DNA. Da allora si sono susseguite false segnalazioni al legale della madre di Denise, testimoni spesso inattendibili e anche dichiarazioni di una ex magistrata che indagò sulla vicenda nel 2004 e che dichiarò di aver raccolto novità sulla vicenda. La donna venne poi condannata a un anno per false informazioni ai PM. Andiamo al processo di appello per l'operazione denominata Scrigno. Sono state chieste le condanne degli imputati al processo scaturito dall'operazione antimafia denominata appunto Scrigno. 15 anni di carcere per l'associazione mafiosa. La richiesta in corte d'appello del pubblico ministero Rita Fulantelli per l'ex deputato regionale Paolo Fulgirello coinvolto nell'operazione denominata Scrigno. In primo grado l'esponente del PD era stato invece condannato a 12 anni ma per concorso esterno in associazione mafiosa. Chiesti 8 anni per l'ex consigliere provinciale Vito Mannina e per l'ex consigliere comunale di Erice Alessandro Manuguerra. L'operazione Scrigno dei Carabinieri portò alla luce l'intreccio tra mafia e politica nel Trapanese. Per Fulantelli Ruggirello avrebbe fatto gli interessi di Cosa Nostra sottolineando che sono stati i politici in cerca di consensi elettorali a cercare il sostegno di Cosa Nostra. Vito Mannina avrebbe chiesto il supporto del boss Pietro Virga per reperire voti per la figlia Simone a candidata al consiglio comunale di Erice mentre Alessandro Manuguerra attraverso il padre si sarebbe rivolto a Franco Orlando sempre per la stessa finalità. La sentenza sarà emessa entro la fine dell'anno. In primo grado il verdetto venne emesso dal tribunale di Trapani nell'aprile del 2023. La pena più severa a 21 anni di carcere era stata inflitta all'anziano consigliere del mandamento mafioso di Trapani Antonino detto Nino Buzitta ritenuto dagli inquirenti vicino ai capi mafia i fratelli Virga. 16 anni all'agrigentino Vito D'Angelo che avrebbe messo su una cellula di Cosa Nostra a Favignana. 12 anni per Vito Gucciardi, un anno e 8 mesi per Vito Mannina, un anno infine per Alessandro Manuguerra. Dopo le incertezze delle ultime settimane finalmente si riattiva la mensa comunale per le scuole di Trapani. L'avvio del servizio potrebbe già partire dalle settimane prossime. Finalmente le scuole del comune di Trapani vedranno l'attivazione del servizio di mensa scolastica. Con una determina del 24 ottobre l'amministrazione comunale pone fine a un lungo periodo di incertezze. Dopo le recenti vicissitudini che avevano causato ritardi nell'attivazione della mensa, la situazione sembra essersi sbloccata definitivamente. Nelle ultime settimane la gestione del servizio mensa nelle scuole trapanesi era stata oggetto di forti preoccupazioni da parte dei genitori e del personale scolastico. A causa di problemi burocratici e di precedenti intoppi nella gara d'appalto, l'avvio del servizio aveva subito ritardi significativi, compromettendo il regolare svolgimento della routine scolastica e la dieta equilibrata dei piccoli studenti. Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, in una nota si è detto fiducioso che, superati i tempi tecnici e organizzativi, il servizio potrebbe già attivarsi a metà della prossima settimana. Appalti senza gare. Lancia e l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili scrive all'assessore regionale alle infrastrutture. L'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili Sicilia, preseduta da Santo Cutrone, ha lanciato un segnale d'allarme riguardo la trasparenza e la concorrenza negli appalti pubblici nell'isola. Durante un incontro a Palermo, alla presenza del Vice Presidente Nazionale del Lancio, Domenico De Bartolomeo, sono state discusse nuove strategie per rafforzare la rappresentanza della categoria presso le istituzioni, con un focus su problematiche che vanno dal codice dei contratti pubblici fino alla revisione dei prezzi e alla legge urbanistica regionale. Uno dei temi più critici sollevate dal Lancio Sicilia è la prassi crescente di utilizzare la procedura negoziata per gli appalti di importo compreso tra 1 milione e 5.538 milioni di euro. Questa procedura, prevista dal nuovo codice dei contratti pubblici, consente alle stazioni appaltanti di invitare un numero limitato di imprese selezionate da un elenco, limitando così la partecipazione aperta al mercato. L'associazione ha evidenziato che nel primo semestre del 2024 il 77% degli appalti di questa fascia di importo è stato assegnato attraverso questa modalità, escludendo così una vera e propria competizione. Secondo l'analisi condotta da Ance Sicilia, tra gennaio e giugno 2024, solo il 23,23% dei progetti è stato affidato tramite procedura aperta. Al contrario, il 76,77% degli appalti, ossia 119 progetti per un valore di 260 milioni di euro, è stato aggiudicato tramite procedura negoziata. Ance Sicilia ha inviato una nota all'assessore regionale all'infrastruttura Alessandro Arrigò per sollecitare l'adozione di misure che incentivino l'uso della procedura aperta. Questa modalità permetterebbe una maggiore trasparenza e una più ampia partecipazione delle imprese interessate, garantendo al contempo maggiore sicurezza per amministratori pubblici e imprenditori. Un'altra problematica sollevata da Ance Sicilia riguarda il metodo di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica dell'offerta. Nel 96,90% dei casi nel primo semestre 2024 è stato utilizzato lo stesso criterio, eliminando l'elemento di sorpresa che avrebbe dovuto garantire la funzione antiturbativa. L'associazione richiede pertanto una rotazione fra i tre metodi previsti per assicurare un processo più equo e imprevedibile. Tra poco l'altra sezione del Tg con le altre notizie. Notte di paura a Palermo è uno degli argomenti che tratteremo. è andato a fuoco l'Istituto di Igiene del Policlinico e una parte ovviamente le cause sono ancora da accertare. E poi parliamo di questa giornata di educazione ambientale con due istituti trabanesi che hanno raccolto i rifiuti presenti lungo la costa al Ronciglio. Lo sport invece. Aronica porta i suoi Granata del calcio a Monopoli con convinzione. Domani sera invece gli Shark ospitano Tortona fra le mura casalinghe. E continuiamo appunto l'informazione con questo servizio che ha devastato praticamente l'Istituto di Igiene del Policlinico di Palermo. Una notte di paura. Momenti di paura a Palermo per un incendio divampato all'Istituto di Igiene Giuseppe D'Alessandro del Policlinico. Le fiamme si sono propagate rapidamente divorando tutto quello che si trovava lungo la loro traiettoria. Danni ancora da quantificare ma ad una prima stima sarebbero ingenti. L'allarme è scattato la scorsa notte in Piazza Durante ad andare a fuoco l'ala del primo piano che ospita la sede di controllo della qualità del rischio sismico. Per fortuna al momento del ruogo nella struttura che si sviluppa su quattro piani non c'erano pazienti ricoverati. L'area è stata completamente danneggiata. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco che sulla natura del ruogo non si sbilanciano in attesa dei risultati dei riscontri scientifici. I locali, devastati dal fuoco, sono stati sottoposti a sequestro su disposizione della magistratura, chiamata ora a fare luce su una vicenda tutta da decifrare. Per il momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un incendio di matrice dolosa. Oggi è la giornata mondiale dell'educazione ambientale e in questa occasione gli studenti dell'Istituto Rosina Salvo e del Liceo Artistico di Trapani hanno ripulito il tratto del litorale di Ronciglio. L'iniziativa è stata promossa da Federparchi, dalla riserva delle saline di Trapani a Paceco e da Acqua e Sapone nell'ambito della campagna Curiamo l'ambiente. Per l'occasione gli studenti dell'Istituto Rosina Salvo e del Liceo Artistico di Trapani hanno raccolto i rifiuti presenti sul litorale di Ronciglio. Presente alla giornata di educazione ambientale anche il comandante della Capitaneria di Porto di Trapani, Guglielmo Cassone. Io lo dicevo prima ai ragazzi, loro sono il presente quindi questa tutela ambientale è soprattutto per loro ma è anche per il futuro. Loro sono esempi, sono ottimi esempi più di buone leggi ci vogliono gli esempi e questi ragazzi che come vedete qui si stanno dando da fare per tutelare quello che è il loro ambiente sono veramente un esempio che sono da sprono per loro per le generazioni che verranno dopo di loro ma soprattutto per noi. L'iniziativa si è aperta con i saluti di Francesco Carlucci direttore Federparchi Europac Italia di Simone Gruttadauria di Acqua e Sapone e di Silvana Piacentino direttrice della riserva delle saline di Trapani e Paceco. Questa è la quarta tappa di un'iniziativa nazionale che è partita da Milano poi è continuata su Pisa e la terza tappa si è avuta con Tursi Terme e grazie alla partnership con Acqua e Sapone noi abbiamo realizzato questo progetto che è un progetto di educazione alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva. Noi diciamo già per il prossimo anno abbiamo altre iniziative del genere anche perché noi partiamo dall'esperienza delle aree protette che sono luoghi di conservazione e tutela della biodiversità e vogliamo anche esportare un progetto educativo affinché ci aiuti nel nostro lavoro quotidiano. Io questa mattina sono qui con questo sacchetto in mano perché ho ricevuto un regalo da alcune bambine che sono state accompagnate qui dalla loro mamma per partecipare a questa iniziativa e credo che questa per noi sia un grande successo. Le bambine hanno realizzato con dei tappi di plastica di contenitori di plastica dei contenitori e qui ce ne sono parecchi e questo dimostra che dobbiamo continuare a lavorare a sensibilizzare, ad educare le nuove generazioni dobbiamo continuare a lavorare sempre di più e sempre meglio con tutte le scuole e con i bambini perché sicuramente loro rappresentano possono rappresentare il cambiamento una svolta per questo territorio. L'onorevole Cristina Ciminisi invece è intervenuta sul sovralluogo fatto dall'assessore regionale e beni culturali Scarpinato alla Colombaia questa in vista dell'avvio dei lavori di restauro. Per l'onorevole Cristina Ciminisi le audizioni in commissione OE relative al restauro della Colombaia chieste in questi mesi ma alle quali l'assessore Scarpinato non ha mai partecipato hanno evidentemente acceso i riflettori ed è stato il suo interesse al punto da fare un sopralluogo rendendosi di fatto conto dell'immenso potenziale del più importante e identitario monumento trapanese. Di ciò la parlamentare del Movimento 5 Stelle si è detta contenta commentando positivamente il sopralluogo dell'assessore ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato accompagnato dalla soprintendente Girolama Fontana. Per la Ciminisi tuttavia le rassicurazioni sull'uso del bene successivamente al restauro giungono tardive rispetto ad un periodo in cui la mancanza di certezze sulla finalità avrebbe potuto alimentare interessi speculativi che poco avevano a che fare con gli obiettivi indicati nella scheda tecnica del progetto che si è giudicato il finanziamento da 27 milioni di euro del PNRR. La deputata regionale vicepresidente della Commissione UE ha assicurato il suo impegno per continuare a vigilare sul rispetto di quelle finalità che rappresentano lo spirito del PNRR. Torna l'ora solare ecco quando dobbiamo spostare le lancette dell'orologio ma anche quali sono le possibili conseguenze sul nostro corpo. Il momento tanto atteso si avvicina il passaggio dall'ora legale a quella solare è ormai alle porte. Con l'arrivo dell'autunno le giornate si accorciano il buio cala prima e le temperature iniziano a farsi più fresche. A San Ciro ufficialmente questo cambiamento sarà il ritorno dell'ora solare. Il cambio d'orario è fissato per la notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre precisamente alle 3 del mattino quando le lancette dei orologi torneranno indietro di un'ora. Un gesto che per la maggior parte dei dispositivi elettronici avverrà automaticamente regalando così un'ora in più di sonno e permettendo di svegliarsi con il giorno già avanzato. Introdotta in Europa nel 1966 l'ora legale è al centro di accesi dibattiti da parte di molti paesi in particolare quelli nordici che spingono per la sua abolizione mentre altri chiedono di mantenerla tutto l'anno. Ma quali sono le conseguenze di questo cambiamento sul nostro organismo? Il passaggio di orario influisce in modo significativo sul ritmo sonnoveglia causando spesso disturbi del sonno riduzione della qualità del riposo difficoltà di concentrazione e persino alterazioni nei ritmi cardiaci e nella temperatura corporea in casi più gravi si possono manifestare sintomi depressivi per tornare all'ora legale invece dovremo attendere fino all'ultimo fine settimana di marzo 2025 precisamente tra il 29 ed il 30 marzo quando le lancette dovranno essere spostate in ore in avanti questo passaggio è legato all'ottimizzazione del consumo energetico nonostante le discussioni sull'eventuale abolizione del cambio d'orario il dibattito resta aperto e continua a dividere l'opinione pubblica con l'arrivo di questo cambiamento ci prepariamo dunque ad un autunno che porta con sé non solo un cambio di stagione ma anche un'importante riflessione sul nostro benessere questa sera sulla nostra emittente in diretta alle 20 e 30 poi in replica mezzanotte e mezza una nuova puntata di time out ospiti saranno Andrea Diana l'assistant coach dei Trapani Shark i giornalisti Salvatore Puccio e Federico Tarantino e in collegamento da Milano ci saranno Mario Boni Nando Gentile e Alessandra Tropiano a condurre il collega Mirko Ditta alle 21 e 30 invece replica alle 23 spazio a res pubblica Sicilia e Chiama Europa nella prima parte due medici il primario di ortopedia e traumatologia il dottore Carlo Sucameli con il dottore Francesco Baristreri che è dirigente della stessa unità nella seconda parte invece parliamo di politica con il vice segretario nazionale del Partito Socialista onorevole Nino Oddo tra poco lo sport Apriamo con il calcio Mister Salvatore Aronica ha parlato della trasferta di domani pomeriggio contro il Monopoli Mister che settimana è stata? Una settimana importante una settimana che ci ha permesso di lavorare in virtù dell'anticipo di domani ma con grande entusiasmo grande serenità grande concentrazione perché se abbiamo fatto domenica un risultato importante ma già domani c'è una nuova prova per cercare di fare quello che dobbiamo fare in trasferta contro una diretta concorrente con un avversario ostico e quindi abbiamo lavorato molto bene Come sta il Trapani? Al Trapani sta in una buona condizione psicofisica e i risultati chiaramente danno serenità danno autostima a livello fisico abbiamo lavorato abbiamo recuperato alcuni tasselli importanti e quindi c'è l'imbarazzo della scelta tra le file granate appunto e quindi sono molto fiducioso per la gara di domani Quello visto contro il Cerignola è il Trapani che vuoi? Diciamo che il Trapani visto con il Cerignola è quello che ha annichilito l'avversario che è partito subito forte non ha sbagliato atteggiamento è stato cinico quindi un Trapani completo un Trapani che vorremmo vedere sempre che vorrei vedere sempre ma so che spesso e volentieri ci sono anche gli avversari magari non sempre sia in quella condizione fisico-psicologica ottimale quindi però è il Trapani che si avvicina molto a quello che ha questa squadra nelle corde che può fare che sicuramente ancora non ha espresso tutti i suoi valori ecco anche in termini individuali Si può dire che si sta entrando in una fase chiave della stagione visti gli impegni e gli avversari? Sì diciamo che il mese di novembre è ricco di impegni tra campionato e Coppa gli avversari stanno crescendo stanno tornando alcune squadre come il Crotone come l'Avellino stanno venendo su ecco come erano gli obiettivi di partenza e quindi ci sarà da lottare ci sarà da battagliare ripeto domani abbiamo una partita molto difficile con una squadra che è seconda in classifica che ha fatto più di noi e che sta attraversando un ottimo periodo quindi ogni partita è una battaglia ogni partita c'è grande equilibrio il Girone C testimonia questo e quindi dovremmo farci trovare pronti senza mai abbassare la guardia Che avversario è il Monopoli e come va interpretata questa partita? Il Monopoli è un avversario di categoria che subisce pochissimi gol che si difende molto bene che ha ottima individualità ecco in tutti i reparti ripeto i 18 punti testimoni del fatto che ha operato bene sul mercato e che è partito molto bene in campionato e quindi per noi sarà una partita molto difficile fuori casa in un campo in erba vera che chiaramente non siamo proprio abituatissimi ma a zero alibi grande voglia grande entusiasmo grande abbenegazione e approccio giusto alla gara quelli sono i segreti che abbiamo lavorato in settimana per cercare di appunto farci trovare pronti e battaglieri Tutti a disposizione? Tutti a disposizione tranne Zuppel che stiamo cercando di recuperare ecco in estremis ma se non doverse farcela ecco sarà pronto per mercoledì e quindi tutti 22 pronti e partiremo in gruppo per cercare di domani decidere e mettere in campo dal primo minuto gli 11 che stanno meglio e alla vigilia di Travani Shark Tortona il coach Yasmin Repe già ha parlato in conferenza stampa giochiamo contro una squadra che la gente già conosce già vista qua perché hanno giocato torneo inizio di agosto e là abbiamo visto che si parla di una squadra veramente ben costruita ben allenata una squadra molto profonda una squadra altissimo livello alla fine ci ricordiamo che hanno giocato contro Partizia una partita tirata fino in fondo quando una squadra come loro dopo quattro partite prima con rimbalzi fatti presi sicuro si parla come una squadra con una presenza fisica che è in grado di mettere una fisicità altissimo livello in una partita quando si gioca contro una una squadra che è seconda in classifica con assist fatti si parla di una squadra che gioca come squadra e muovono la palla bene voglio dire giochiamo contro una squadra molto organizzata ben allenata è una squadra molto profonda è una squadra che è in grado di mettere fisicità altissimo livello ed eccoci qua concludiamo oggi la settimana di approfondimenti dedicati alle truffe parliamo di truffe sempre più innovative siamo stati alla questura di Trapani per fare un po' il punto della situazione sulla provincia di Trapani nell'intervista di Valeria Marrona il dilagare delle truffe continua a rappresentare una seria minaccia con un bilancio allarmante secondo i dati forniti dalla polizia postale delle comunicazioni aggiornati al 20 ottobre 2024 sono state registrate ben 505 truffe digitali nelle province di Palermo Trapani Agrigento e Caltanissetta dall'inizio dell'anno il bottino complessivo supera i 4 milioni di euro confermando come reggiri telematici siano un fenomeno in continua espansione le modalità più frequenti di truffa includono i falsi annunci di ventita phishing clonazione di carte di credito e accesso non autorizzato a conti correnti bancari le autori utilizzano tecniche sempre più sofisticate per ingannare le vittime rendendo difficile per i cittadini riconoscere i pericoli nascosti dietro offerte o comunicazioni apparentemente innocue esistono diverse tipologie di truffa e oggi se mi permettete posso dire che anche la modalità di truffare è cambiata è molto più sofisticata i truffatori spesso e volentieri si organizzano tra di loro quindi più persone per il medesimo fine delittuoso parliamo di vere e proprie associazioni con ruoli ben definiti spesso collocati in un territorio diverso da quello in cui decidono di operare e fare le vittime in sostanza parliamo di metodologie che in passato sembravano colpire soltanto delle fasce deboli della popolazione gli anziani le persone meno informate mentre adesso possiamo dire che tutti siamo esposti al pericolo di subire una truffa perché le truffe oggi sono molto sofisticate molto ben strutturate ci sono diverse tipologie a cominciare da quella più comune la truffa del finto carabiniere del finto avvocato che chiama per riferire su un incidente grave che ha colpito un parente o truffe telematiche dove in realtà il truffatore è un vero e proprio hacker stiamo parlando del solito tipico sms alert che viene inviato sul telefono cellulare della vittima che lo informa che c'è in atto un accesso al suo homebanging al suo spazio bancario virtuale da parte di un altro dispositivo e dunque viene invitato a contattare un'utenza dall'altra parte del telefono c'è il truffatore che ripeto è molto esperto e quindi guiderà la vittima affinché l'accesso all'home banking sia funzionale poi ad aprire le porte al truffatore del conto corrente e quindi a prelevare le somme di denaro perché ogni truffa come potete immaginare chiaramente si risolve poi nella possibilità di captare del denaro quindi di un esborso un'altra tipologia di truffa frequente è odiosa perché fa molto leva sull'emotività delle persone invece la truffa che appunto si chiama romantica o la truffa sentimentale del soggetto che inizia una relazione virtuale con un'altra persona fino a diciamo pensare a un progetto di vita insieme ma in realtà è tutto finalizzato al momento in cui chiederà il denaro e questo accade paventando una malattia un grave problema economico e spinge il partner che ormai si considera tale e quindi coinvolto sentimentalmente all'esborso di denaro dopo il quale chiaramente l'altra persona scompare e non se ne hanno tracce una delle truffe più comuni riguarda anche le cosiddette case fantasma prenotate da turisti ma che una volta arrivati sul posto si rivelano inesistenti secondo una ricerca commissionata da Facile.it questa tipologia di frode ha colpito il 63% degli utenti truffati altra truffa diffusa è la cosiddetta catapecchia una sistemazione presentata come paradisiaca ma che si rivela in pessime condizioni questo raggiro ha coinvolto il 30% delle vittime molte delle quali hanno comunque deciso di proseguire la vacanza nonostante la situazione le regioni più colpite dalle truffe online non fanno eccezione la Sicilia è un esempio lampante solo nel primo semestre del 2022 nelle province di Catania Messina Ragusa e Siracusa la polizia postale ha trattato 352 casi di truffe su piattaforme di prenotazione con 152 denunce e un danno economico superiore ai 250.000 euro insomma la situazione allarmante e i dati parlano chiaro nell'anno 2023 a Trapani sono stati 2066 gli eventi di truffa e 130 i denunciati mentre nell'anno corrente sono 1210 le segnalazioni alla polizia di stato con 87 persone denunciate è da anni che la polizia di stato porta avanti una campagna di informazione più che di sensibilizzazione nei confronti del fenomeno delle truffe invitiamo la gente ad essere diffidente e quindi proviamo diciamo ad arrivare nelle case delle persone attraverso delle campagne che possono essere appunto incontri con gente con comitati di quartiere oppure nelle scuole in ogni caso anche questo strumento che voi mettete a nostra disposizione è assolutamente utile per invitare la gente a diffidare da richieste che sembrano assolutamente anomale e quando si hanno dei dubbi immediatamente contattare un parente anche il vicino di casa e sempre il 112 perché rappresentando quello che vi accade di strano l'operatore sarà in grado di darvi le risposte corrette e anche il